Andiamo avanti. È apparso anche domenica un mio articolo sul secolo a proposito di cosa? Del gas. Dico questa parola e so già, vedo parecchi di voi nelle vostre case saltare perché il dolore è notevole. Stanno arrivando le bollette del gas che sono delle mazzate. Perché questo? Perché c'è da pagare un conguaglio. Perché c'è da pagare un conguaglio? Perché è stato introdotto il coefficiente C. Se voi vi mettete lì a guardare la vostra bolletta, premesso che difficilmente ci capirete qualcosa, anzi il 90% non ci capisce niente, quei pochi che riescono a capire, ma che poi se non sono ingegneri o proprio tecnici specifici del settore capiscono quasi niente, cos'è successo? È successo che, hanno fatto degli studi, si è stabilito che il potere calorifico, cioè il tempo, diciamo, se io metto su un pentolino per scaldare un litro di acqua, quanto tempo devo farlo bollire? Qual è il potere calorifico? Più potere calorifico ho, più mi si scalda, mi arriva l'ebollizione dell'acqua prima e quindi meno gas consumo. Più è potente e meno è il consumo. Allora, sti Volpoli, cosa hanno detto? Dato che, ad esempio, nella zona costiera, qua del Tigullio, il potere calorifico è un po' più alto di quello stabilito, anche lì, perché, come, chissà perché, dalla legge, allora cosa dovete fare? Dato che il contattore segna comunque il quantitativo di gas, però, dato che, anziché 10 minuti, ipotesi, per far bollire 5 litri d'acqua, ne impiegate 4,40, 20 secondi di risparmio ce li dovete dare. In che modo? Bisogna moltiplicare il consumo del contattore per un coefficiente C, che si chiama, e vabbè, che da noi è stato stabilito, considerando l'altezza, l'attitudine, l'angelo, tutti gli elementi centrali di distribuzione del gas, una serie di parametri, c'è il sito dell'Enea, addirittura, ecco, è 1,024. Quindi, cosa succede dell'anno scorso, dal luglio scorso? Che noi crediamo di avere consumato 100, crediamo di dover pagare 100, e no, noi abbiamo consumato 100, ma non dobbiamo pagare 100, dobbiamo pagare di più, 100 moltiplicato 1,024. Adesso arrivano gli arretrati, e sono dolori per tante persone, si tratta di bollette di migliaia, in tanti casi, di euro, perché poi c'è i conguagli, magari non erano state fatte le letture, l'inverno è stato lungo, molto rigido, molto freddo, perciò consuma gas, soprattutto per chi ha riscaldamento autonomo, se ne è consumato parecchio. E quindi, ecco, i dolori, ma soprattutto l'incomprensibilità di queste bollette, cioè uno fa i conti, ultima lettura 100, penultima 50, consumo 60. Ma come? Da 50 a 100 ci sono 50, non 60. No, tu ne devi pagare 60, perché il potere calorifico è più alto del previsto. Secondo me non va bene, è qualcosa di abnorme, di ingiusto, non dico di legittimo perché è stato autorizzato, ma non tutto ciò che viene autorizzato dallo Stato è giusto, eh? Sta di fatto che noi dobbiamo pagare fior di quattrini, sia di arretrato, sia mano a mano, per il futuro, con questo sistema di calcolo particolarmente astruso, perché io ho tentato di spiegare, ma io credo che ben pochi avranno capito, qualche ingegnere avrà capito. Ma andiamo avanti. Allora, ecco, dimenticavo, a conclusione di queste bollette, per chiudere il discorso sulle bollette del gas, se voi chiedete la massima rateizzazione, perché quando ci sono importi di una certa consistenza, non è che uno può togliersi due stipendi in un colpo per pagare il gas, chiedete che vengano rateizzate, chiedete che venga fatta la massima rateizzazione, ma attenzione, perché se questa massima rateizzazione va poi a sovrapporsi con i futuri mesi invernali, dove arriveranno le nuove mazzate, ci sarà da pagare a novembre, a dicembre, a gennaio, sia il nuovo consumo, che ormai ha aumentato il costo, non in maniera indifferente, più ancora le rate di saldare questo. Quindi, se ce la fate, cercate di chiudere queste bollette pagando le rate entro ottobre del 2010. Non andate più avanti, perché se no vi trovate ad avere le due cose da pagare, la rata vecchia e la nuova.